veloce veloce prima che me lo rubino buongiorno come sta benissimo ma quanto siete stati bravi il solito sappiamo fare questo e lo facciamo e direi che lo sapete fare molto bene ma lei chi è che io lo so ma lei chi è io sono uno sbandieratore della città di alba sono il presidente del gruppo e mi chiamo sergio de stefanis bene ma siete stati bravissimi anche questa collaborazione un po per noi improvvisata con gli astigiani è stata fantastica ma questa qui è la nostra storia noi ci siamo abituati a giocare con la bandiera giocare con la piazza e abbiamo invitato anche loro a fare quello che facciamo noi tutte le domeniche quando andiamo in giro portare i nostri colori per le città per le feste ma siete veramente bravi ma io posso ciao tu chi sei matteo matteo ma quanti anni hai ma sei già qui che ti mettono al lavoro sì e ti piace sì e tu sbandiererai anche o suonerai solo suonero solo hai già deciso che questo è il tuo mestiere molto bene di un po ciao alba web tv